RS nero e grigio sono di nuova plastica multifunzione con un elevato potere coprente, evoluzione di RS con aggiunto un pigmento coprente, per nascondere al meglio possibile, per moltissimi mesi con una sola applicazione, segni indelebili che si formano sulla plastica nera o grigio scura, quando viene indelebilmente macchiata, rovinata, dal calore di phon o torce, o macchiata, da detergenti o prodotti corrosivi. E sono multifunzione perché, oltre all'applicazione sulla plastica e sulla resina, sfruttando le elevatissime proprietà antiossidanti di RS, ti permettono di bloccare la ruggine per moltissimi mesi con una sola applicazione, con la caratteristica di aggrapparsi sia alla ruggine che alla vernice rimasta, e contemporaneamente rinnovare anche la vernice nera o grigia nelle parti sane in cui la ruggine non ha proliferato. Senza la possibilità, poi, di staccarsi come quando vernici sopra un convertitore, con un enorme risparmio di tempo, perché con RS nero e grigio non hai necessità di bonificare a fondo. È sufficiente che la superficie sia pulita dalla polvere e dalle croste prossime al distacco e asciutta. L'applicazione sui talloni dei cerchi arrugginiti è particolarmente utile perché bloccando la proliferazione della ruggine e della rugosità che si crea, si sigilla il contatto tra gomma e cerchio, necessario a impedire lente ma inesorabili perdite d'aria e di pressione del pneumatico. La finitura è idrorepellente subito dopo l'applicazione, ma sarà verniciabile e termoresistente terminato l'assorbimento. Il tempo di assorbimento sulla plastica è un po' più lungo rispetto a RS perché le plastiche rovinate assorbono meno e più lentamente, e perché il pigmento aggiunto addensa leggermente il prodotto. Si consiglia di passare sempre il panno terminata l'applicazione per togliere il prodotto in eccesso che non verrebbe assorbito. RS nero e griso sono prodotti esclusivi innovativi, con caratteristiche uniche che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente, brevettati da Black Traction. Hanno un'elevata resa media, variabile tra i 18 e i 24 metri quadri di superficie piana per litro di prodotto, e conservati ben chiusi, anche dopo l'utilizzo, non hanno scadenza. Li puoi ordinare dal sito Black Traction e ricevere comodamente a casa, ma non li trovi su piattaforme come Amazon. Grazie per la visione!